Il Vescovo Agostinelli Il Vescovo Agostinelli Il Vescovo Agostinelli Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale delle 20 e 30. Terzo appuntamento dell'anno con l'ostensione della Sacra Cintola, quella di domani, festa dell'Assunta, sarà l'ultima presieduta da Monsignor Agostinelli che a settembre passerà il testimone al nuovo Vescovo di Prato, Monsignor Nerbini. Sarà l'ultima ostensione del Sacro Cingolo dell'Episcopato Pratese di Monsignor Franco Agostinelli. Il giorno dell'Assunta, alle ore 18, il Vescovo, ora amministratore apostolico di Prato, mostrerà il Sacro Cingolo ai fedeli raccolti in duomo e sulla piazza antistante. Il rito sarà preceduto alle 17 e 30 dai Vespri, mentre alle 19 verrà celebrata la Santa Messa. Il primo settembre Agostinelli saluterà ufficialmente la diocesi che ha guidato per quasi sette anni. Il sette invece consegnerà il pastorale della Chiesa di Prato al suo successore, Monsignor Giovanni Nerbini. Si chiuderà così, per raggiunti limiti di età, l'Episcopato Pratese di Agostinelli. Vivrò l'ostensione dell'Assunta con particolare emozione, confide il Vescovo. Stringere per l'ultima volta la reliquia intorno a cui la Chiesa e la città di Prato sono cresciute e mostrarla alla gente, benedire la gente, mi farà nascere naturale una preghiera per questo popolo che ora dovrò lasciare. Affiderò alla Madonna Assunta, conclude Agostinelli, tutti i Pratesi, in particolare chi soffre nel corpo e nello spirito, chi vive il dramma di un lavoro perso, chi le difficoltà di una famiglia in crisi, chi ha la ricerca di un senso per la propria esistenza. L'ostensione dell'Assunta è una delle cinque canoniche previste da secoli ogni anno. Il Vescovo Agostinelli, affiancato dai canonici del capitolo della cattedrale, entrerà nella cappella affrescata da Agnolo Gaddi dopo la recita dei Vespri e per tre volte mostrerà la reliquia dalla loggia del Ghirlandaio all'interno della cattedrale e dal pulpito di Donatello sulla piazza del Duomo. Per il Vescovo Franco sono gli ultimi giorni del suo mandato nella diocesi di Prato. Dallo scorso 15 maggio, quando è stata resa nota la nomina del suo successore, Monsignora Giovanni Nerbini, Agostinelli è stato nominato amministratore apostolico di Prato, un incarico che viene attribuito nel momento del passaggio di consegne tra due vescovi alla guida di una diocesi. In questi giorni Agostinelli sta completando il trasloco nella sua casa di famiglia d'Arezzo dove tornerà a risiedere insieme con la mamma quasi centenaria. Intanto nelle parrocchie è in distribuzione il materiale che ricorda il congedo del Vescovo uscente e l'ingresso di Monsignor Nerbini. Tutta la comunità è invitata a partecipare fin d'ora al saluto che la diocesi vorrà rivolgere ad Agostinelli durante una solenne concelebrazione eucaristica alle 17 di domenica 1 settembre. Ferragosto è anche festa del cocomero, per meglio dire festa di mezza estate, come si chiama da alcuni anni a questa parte. Vediamo il programma. È una tradizione consolidata nel corso degli anni per coloro che passano il ferragosto in città. Stiamo parlando della festa del cocomero, ribattezzata da alcuni anni festa di mezza estate. L'appuntamento è per domani a partire dalle ore 20 in piazza Santa Maria delle Carcere e via Le Piave, divenute da un po' di tempo la nuova location della festa agostana organizzata dal Comune di Prato in collaborazione con la pubblica assistenza all'avvenire e con il contributo di S. Lunga che metterà a disposizione circa 20 quintali di cocomeri che saranno tagliati e distribuiti dai volontari dell'associazione. Cocomero per tutti, ma anche musica dal vivo, questi gli ingredienti della festa che avrà inizio dopo le celebrazioni in Duomo per l'ostensione della Sacra Cintola, a cui prenderà parte anche il primo cittadino Matteo Biffoni, accompagnato dal gonfalone del Comune di Prato e dal corpo dei Valletti. Come vuole la tradizione sarà il sindaco a tagliare la prima fetta di cocomera o dando ufficialmente il via ai festeggiamenti. A intrattenere i presenti alla festa saranno i diastema, band composta da sette elementi che propone in chiave acustica un vasto repertorio di brani pop rivisitati in maniera originale. Ma non è tutto, la festa proseguirà anche in notturna all'insegna della cultura. Il Museo di Palazzo Pretorio, che a ferragosto sarà regolarmente aperto, accoglierà i visitatori anche la sera, dalle 21 alle 23.30 con ingresso gratuito. Si potrà visitare la collezione permanente distribuita nei tre piani del museo e la mostra Passato Ingiudicato di Simone Pellegrini, ospitata a Piano Terra fino a domenica 8 settembre. I visitatori potranno anche salire sulla terrazza del palazzo per ammirare Prato dall'alto by night. Durante il giorno il Museo di Palazzo Pretorio resterà aperto dalle 9.30 alle 15.30 con ingresso gratuito per i residenti. Divieto di bombolette spray agli eventi del settembre pratese. Comune e Questura adotteranno un'ordinanza ad hoc dopo l'ennesimo uso improprio delle sostanze urticanti sulla folla. È capitato lunedì scorso durante il concerto di Salmo, il rapper che si esibirà in Piazza Duomo il prossimo 30 agosto. E' successo di nuovo e per evitare che accada anche a Prato sarà vietato introdurre bombolette spray ai concerti del settembre pratese. Come si vede da queste immagini pubblicate su YouTube da uno spettatore, il rapper Salmo lunedì scorso ha interrotto per due volte il concerto di Lignano Sabbiadoro a cui assistevano 5.000 persone dopo che qualcuno ha sparso lo spray al peperoncino sulla folla. Ci siete? Vogliamo continuare? Ce l'abbiamo ancora un po' d'acqua ragazzi, finché non vedo che state bene non continuiamo. Fatemi vedere. Alza, teneteci le mani, teneteci le mani. Se c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto alzi la mano. L'artista è riuscito a tranquillizzare gli spettatori agevolando i soccorsi. Diversi giovani si sono recati al pronto soccorso per bruciori e irritazioni, ma per fortuna la situazione non è degenerata, come accadde lo scorso dicembre a Corinaldo, in una discoteca al chiuso, dove prima del concerto di Sfera e Basta morirono calpestate dalla folla sei persone con 197 feriti. Salmo sarà presente in Piazza Duomo a Prato il 30 agosto con il suo playlist Summer Tour. Per questo e per tutti i concerti in programma, il sindaco Matteo Biffoni emanerà un'ordinanza che vieterà l'ingresso alla piazza con bicchieri o bottiglie in vetro e con bombolette spray. Un divieto, quest'ultimo, ritenuto una misura fondamentale per evitare l'utilizzo delle sostanze urticanti come strumento destabilizzante durante i concerti con cui seminare il panico e approfittare della situazione per commettere furti o rapine. A questo punto riflettiamo anche su come strutturare appunto un'ordinanza che vieti l'ingresso ovviamente l'utilizzo ma anche l'ingresso all'interno dello spazio concerti di questo tipo di bombolette. Ovviamente dobbiamo stare attenti, c'è quelli per l'asma, c'è quelli spray di odoranti veri eccetera e poi ci sono questi pazzi. Vedremo come strutturare la ma l'intenzione è quantomeno di mettere nero su bianco un'ordinanza che ne preveda la proibizione. Calano i reati ma non i furti in appartamento e le chiamate al 113. In diminuzione anche le patuglie messe in campo dalla Questura. Calano i reati dall'inizio dell'anno ma non i furti in appartamento in particolare nel mese di luglio quando si registra un lieve aumento del fenomeno. Sono i dati resi noti dalla Questura in occasione della visita del sindaco Matteo Biffoni che alla vigilia di Ferragosto assieme all'assessore alla polizia municipale Flora Leoni ha voluto incontrare il personale in servizio per garantire la sicurezza dei pretesi anche quelli in vacanza. Proprio il dato sui furti in appartamento tuttavia non lascia tranquilli se è vero che lo scorso mese ne sono stati denunciati 90, in pratica 3 al giorno e 5 in più rispetto agli 85 del luglio 2018. Incoraggianti i dati complessivi, secondo il trend costante di diminuzione dei reati negli ultimi anni, da gennaio a luglio 2019 sono stati denunciati 6200 delitti con un meno 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2018. In calo gli arresti 105 a fronte di 143 e le denunce 130 in meno. La diminuzione della delittuosità si riflette anche in mille chiamate in meno giunte al 113, meno 3,1%. Rispetto allo scorso anno è diminuito anche il numero delle pattuglie impiegate per il controllo sul territorio, 3.225 rispetto a 3.615 per effetto di una minore presenza di agenti di rinforzo provenienti da Firenze o da Bologna. In parte abbiamo pagato anche lo scotto di aver sostituito buona parte del personale preposto all'Ufficio Prevenzione Generale con l'avvicendamento di nuovi agenti che sono entrati in servizio gradualmente e quindi adesso sono impiegati a pieno titolo e sono state dispiegate tutte le forze possibili sul territorio. Altri dati forniti dalla Questura riguardano il contrasto all'immigrazione clandestina, aumentano gli accompagnamenti ai centri di permanenza e rimpatrio, 93 rispetto ai 56 e gli ordini del Questore a lasciare il territorio entro sette giorni. Da 131 di inizio 2018 si sono già superati quest'anno i 200 provvedimenti. Il dato confortante è che abbiamo una diminuzione generale dei reati e soprattutto poi valuteremo a fine estate anche qual è stato l'impatto dei servizi anche mirati che abbiamo effettuato nei confronti delle persone socialmente pericolose, delle persone che non hanno titolo a permanere sul territorio pratese, sia mi riferisco ai cittadini clandestini, regolari, stranieri sul territorio nazionale, ma sia anche a quelle persone che sono munite al foglio di via o provengono da altre realtà vicini ore con precedenti di polizia ragguardevoli dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pubblicati i dati sui trasferimenti del Ministero dell'Interno agli enti locali per l'attività di recupero delle imposte, il Comune di Prato è riuscito a collocarsi al sesto posto tra i comuni italiani e al primo posto in Toscana con oltre 416 mila euro di trasferimento, un risultato che premia il lavoro del nucleo anti-evasione della Polizia Municipale. La Guardia di Finanza di Firenze con il supporto dei funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli in servizio presso l'aeroporto di Peretola ha sequestrato nei giorni scorsi 150 stecche di sigarette di varie marche cinesi per un peso complessivo di 30 kg. Le segarette erano occultate all'interno dei bagagli di una cittadina cinese in arrivo da Pechino via Parigi. La passeggera è stata denunciata per violazione delle leggi doganali e la merce rinvenuta è stata posta sotto sequestro. Bandoni abbassati in centro d'agosto, alcune vie soffrono più di altre subendo anche il fenomeno dei fondi sfitti. Un triste spettacolo anche per i turisti a Prato, le cui presenze risultano in linea con quelle della scorsa estate, anche se Federalberghi avverte, gli hotel lontani dal centro registrano maggiori pernottamenti di quelli del centro perché intercettano i turisti di Firenze. Vie che soffrono e non per il caldo, o almeno non solo per quello. Sono strade in pieno centro storico, a due passi dal Duomo come via del Serraio e via Muzio, dietro il Comune come via Firenzuola, che tra negozi sfitti e attività in ferie si rivelano una lunga sequenza di bandoni abbassati. In generale tra le mura del centro storico e il giorno prima ferragosto sono poche le attività che hanno deciso di rimanere aperte e a detta di alcuni residenti del centro è difficile in questi giorni fare la spesa muovendosi a piedi. Servizi essenziali? Tocca prendere la macchina per comprare qualcosa? Eh, tu guardai, sono andato al supermercato stamani. È una disperazione, una risolazione soprattutto vedere la città in queste condizioni. Lei un po' di spese però è riuscita a farle qua in centro. Io ho impiazzato uomo sì che nel giro di poco spazio ancora riesco a farla. Però io vedo l'altro giorno, mi è capitato di vedere dei turisti, probabilmente su del nord Europa, con facce sperdute perché non riescono a trovare un caffè, un qualcosa dove perlomeno fermarsi. Sono proprio i turisti a rimanerci male quando vengono a Prato e trovano tutto chiuso. Troviamo alcuni stranieri davanti al museo di Palazzo Pretorio, molti davanti al castello, che complice anche l'ingresso gratuito, nelle sette ore di apertura quotidiana e registra dai 3 ai 300 ingressi giornalieri. Tanti negozi chiusi e anche musei. Siamo venuti qui in centro lunedì pomeriggio e volevamo visitare un museo che però si è rivelato chiuso. Tra le proposte di Federalberghi Prato, da discutere a settembre con l'assessore comunale alle attività produttive, c'è quella di stilare un calendario delle attività aperte nel mese di agosto. La stagione turistica estiva 2019, vista dagli occhi degli albergatori, risulta in linea con quella dello scorso anno. Bisogna distinguere comunque tra il centro storico, dove si hanno prevalentemente turisti individuali e i turisti di gruppo di risulta da Firenze, che occupano prevalentemente gli alberghi di periferia, quelli più grandi. E negli alberghi di periferia, effettivamente, c'è anche nel periodo estivo, nel periodo d'agosto, c'è una buona affluenza. In centro abbiamo due alberghi che sono chiusi per qualche giorno, perché effettivamente in centro il turismo individuale, se non è quello mordi e fuggi di passaggio, è molto ridotto. Vengo da Parigi, non dormo a Prato, andrò ad Artimino per questa notte, sono venuto a Prato solo stamattina per visitare il Duomo e il Castello. E l'estate si fa sentire anche nelle frazioni, alla pietà, come qualche cittadino ci aveva segnalato, si contano sulle dita di una mano le attività aperte sotto Ferragosto. Via Machiavelli, via Lambruschini, via Capponi sarebbero un deserto se non fosse per qualche bar o gelateria. La zona di caffaggio e del soccorso regge. Qui alcuni commercianti per scelta da qualche anno anticipano le ferie e rimangono aperti tutto agosto. Noi abbiamo avuto sempre un buon afflusso d'agosto, anche quando si svuotava di più la città, però ci siamo accorti che effettivamente con il passare degli anni la città rimane sempre popopolata. Venivo dalla grande distribuzione, ho sempre lavorato ad agosto e allora ho cercato sempre perché ad agosto quando stavo a casa non trovavo niente e ora c'ho un bar mio e ho detto voglio rimanere ad agosto. Con la fortuna di avere un panificio e lavoro anche a Ferragosto abbiamo anche il pane a Ferragosto. E' morto ieri a 91 anni il partigiano vaianese Mario Sinibaldi. Lo rende noto Lampi di Prato, esprimendo cordoglio per la perdita di un altro testimone della resistenza e dell'antifascismo. Nel 2016 Sinibaldi fu tra i 19 pratesi premiati con la medaglia per il loro impegno nell'affermare i principi sui quali è fondata la Repubblica Italiana. E oggi è venuto a mancare anche il pratese Marcello Martini, 89 anni, sopravvissuto ai lager nazisti e membro dell'ANED che da molti anni viveva nella sua casa in provincia di Torino. La Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato nel settembre 2017 ha voluto dedicare alla famiglia di Martini un libro e una mostra. Prosegue fino a domenica a Caffaggio la festa del volontariato, 35 volontari che rendono possibile l'iniziativa a scopo benefico. Ogni anno per due settimane ad agosto dedicano una parte delle ferie del Tempo Libero a riscoprire e far riscoprire il valore della solidarietà. Sono i volontari che da 14 anni a questa parte rendono possibile la festa del volontariato di Caffaggio. Iniziata lo scorso 3 agosto la manifestazione proseguirà fino a domenica. Tutte le sere a partire dalle ore 19.30 nel giardino della Casa del Popolo di Via del Ferro è possibile cenare aiutando al contempo le persone più bisognose. Come sempre infatti il ricavato della festa verrà devoluto alle associazioni del territorio della Piana che si impegnano quotidianamente per il sostegno e la solidarietà nei confronti dei meno fortunati e di quanti si trovano nel bisogno. Siamo alla 14esima edizione della festa del volontariato che si svolge presso la Casa del Popolo di Caffaggio in Via del Ferro a oggi da quando abbiamo iniziato il 3 agosto abbiamo avuto una presenza costante che ha variato dalle 80 alle 130 persone quindi siamo abbastanza contenti. L'anno scorso lo abbiamo dato a 12 associazioni per un totale di 12.000 euro. Speriamo quest'anno di distribuire la stessa cifra se non una cifra superiore e andrà naturalmente sempre ad associazioni che operano nel territorio di Prato, Firenze e Pistoia generalmente per aiutare persone in disagio o comunque che operano a favore degli altri per aiutare persone o enti che si trovano in difficoltà. Sono 35 volontari che ogni giorno, suddivisi in due turni, danno il loro prezioso contributo per la riuscita della festa. Io mi chiamo Angelita, faccio volontariato da sempre e mi presto sempre dove c'è bisogno da fare. Io qui al circolo sono dal 2005 che faccio volontariato e praticamente è bello perché siamo a contatto con le persone e soprattutto perché il tempo che viene speso qui serve per poter aiutare chi ha bisogno. Carmignano ha una nuova centenaria. Ieri circondata da familiari e amici ha spento 100 candeline Lubiana a Spinelli. Presenti anche il sindaco Edoardo Prestanti e il vice sindaco Federico Migaldi che per l'occasione hanno consegnato alla festeggiata una targa con gli auguri e le felicitazioni dell'amministrazione comunale di tutta Carmignano. In occasione del compleanno di Lubiana familiari, amici e parenti hanno deciso di fare una donazione all'ospedale pediatrico Meyer. È il momento della nostra agenda per andare a scoprire tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Domani dalle 20 in piazza Santa Maria delle Carcere, Via Le Piave, festa di mezza estate, cocomero per tutti e musica dal vivo con il gruppo Diastema. Ferragosto al museo con il museo di Palazzo Pretorio che resterà aperto dalle 9.30 alle 15.30 con ingresso gratuito per i residenti e in via straordinaria dalle 21 alle 23.30 con accesso alla terrazza panoramica e ingresso gratuito per tutti. Aperto domani anche il Centro Pecci dalle 10 alle 23.00. Alle 17.00 al Parco del Bargo appoggio a Caiano, Ferragosto con noi, intrattenimento musicale, ricca merenda e cocomero per tutti. Alle 21.00 in piazza Galilei a Vaiano, Ferragosto insieme, cocomero, brindisi e musica dal vivo con il gruppo vaianese I Malviventi. Alle 21.30 al chiosco della strega Filine, festa di chiusura della stagione estiva con la musica dei Goofy Goose. Sempre alle 21.30 al Castello dell'Imperatore proiezione del film Croce e Delizia, mentre venerdì 16 agosto al Castello dell'Imperatore alla stessa ora verrà proiettato il film Dolori Gloria. Prosegue fino a domenica 18 agosto al Circolo Arci di Cafaggio la festa del volontariato. Tutte le sere estende gastronomico in funzione con un piatto speciale per la cena di Ferragosto lasagna alla bolognese, mentre venerdì sera pasta allo scoglio. Il ricavato della festa sarà devoluto alle associazioni del territorio impegnate nel sostegno ai più bisognosi. Diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona serata e ben trovati. Per la giornata di Ferragosto torna a farci visita all'anticiclone dell'Azzorra con tempo stabile e temperature nella media. Lo vediamo dalla grafica all'insegna del sole in mattinata con venti deboli, mare ancora mosso, temperature in leggero calo con valori gradevolmente attorno ai 14-16 gradi. Nel pomeriggio non cambia molto, soltanto qualche nuvola pomeridiana sui lievi ma senza precipitazioni, venti in regime di brezza con ancora mare mosso e temperature gradevolmente attorno ai 32-34 gradi, quindi nella media per il periodo. Per la giornata di venerdì ma poi in generale anche per i weekend non cambia molto, il tempo si manterrà stabile all'insegna del sole con temperature in leggero aumento ma sempre su valori prossimi a quelli tipici per il periodo. Bene, con questo è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Augurandovi una buona serata. Il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è per venerdì alle 13.45. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.